eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo sul mondo di call of duty nuova guida ragazzi ringrazio i miei amici doc groom the king oppai dragon che hanno creato questa guida appunto per me per code italia in merito a come scaricare e giocare call of duty online in italia ed applicare la patch in inglese perché ovviamente code online come sapete è disponibile soltanto per il territorio cinese e a mio avviso è uno dei call of duty più completi che ci sono al momento disponibile così potete praticamente giocarlo anche voi quindi grazie ancora ragazzi qui sotto nei commenti ovviamente poi fatemi sapere che cosa ne pensate e sia doc che dragon vi aiuteranno per qualsiasi dubbio bisognerà come prima cosa scaricarsi we game vi lascio qui sotto i link così capirete dove andare e i siti da raggiungere bisognerà cliccare sul pulsante con la freccia verso il basso e installare il launcher sempre cliccando sul tasto giallo che vi apparirà una volta aperto il launcher ora bisognerà fare il login su we game una volta scaricato quindi una volta che aprirete we game vi ritroverete questa schermata alla barra sopra dove si inserisce il login la parte sopra quindi il qq è l'id mentre la parte sotto è dove si mette la password siccome non abbiamo un account qq lo dobbiamo creare tramite il link che ovviamente troverete qui sotto in descrizione che è ssl.z.qq.com una volta creato basterà come già detto mettere l'id che lo troverete nel profilo dopo la registrazione questo nella parte sopra mentre nella parte sotto la password ora la cosa è più facile perché bisognerà scaricare call of duty online una volta arrivati nella schermata basterà scrivere in alto a destra code all cliccare sul primo risultato e successivamente sopra il banner di code online considerate che indica normalmente 18,42 gigabyte quindi è bello corposo ci ritroveremo in questa schermata e a destra in basso ci ritroveremo un pulsante blu che sarebbe proprio il tasto download ci cliccherete e così inizierà il download per poterlo giocare basterà cliccare sulla casetta in alto che vi ritroverete in questa schermata con il gioco scaricato basterà cliccare sul pulsante giallo e potrete iniziare a giocare però non lo fate perché vi devo spiegare come installare la patch in inglese perché se no ragazzi andrete veramente a tastoni bisognerà innanzitutto andare sul link che trovate in descrizione scaricare i due file che sono project d3code e translation db dai rispettivi link della loro pagina bisognerà chiudere dal gestione attività we game 10 protect tqm center rinominare il file translation file da translation db a translation db punto db e poi bisognerà copiare il file d3 d9 punto dll e il file rinominato translation db punto db e incollarli dentro la directory del gioco che per tutti quanti dovrebbe essere c due punti programmi tencent game code all e adesso potremo avviare il gioco che vedrete con la traduzione in inglese ovviamente per qualsiasi dubbio scrivete qui sotto nei commenti che i miei amici che torna a ringraziare doc groom e the king oppai dragon che hanno creato questa guida per me e per code italia praticamente vi aiuteranno e saranno ben lieti di risolvere i vostri problemi qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate una volta che l'avete avviato e giocato e noi ci vediamo ad un prossimo video